Buonasera a tutti gli ascoltatori di In Giro per voi web, ci troviamo a Sieti, vicino Giffoni, nel mitico ristorante Il Brigante, per il mio tour piatti stupefacenti, perché più proteina, meno cocaina. Qui ci troviamo con i proprietari, i fantastici chef di questo ristorante, che è Rosaria, e Guido, ci spieghi cosa abbiamo mangiato oggi, io ho mangiato benissimo. Allora abbiamo iniziato con degli antipastini del posto, con dei salumi locali e delle verdure sempre del posto, preparate sapientemente dalle mani della mia signora, con un'altra aiutante, e poi abbiamo degustato la pasta, avete degustato la pasta, io ve l'ho solo servita. E' veramente ottima, poi alla fine abbiamo mangiato della carne buonissima. Sì, anche la carne è paesana, è la carne di cinghiale, carnagione, quindi è una cosa particolare, non una cosa che si trova dappertutto, semplicemente, non si trova dappertutto. Lei ha questo bellissimo sorriso, come si sente quando cucina? Bene, bene. Lei fa veramente felice i suoi clienti? Sì, spero di farli felici, cerco di... Bene, quindi da Giffoni Valle Piana, Anzi Sieti, da Ristorante Brigante, Abbasso la Droga, viva la vita, viva la pasta! Ciao! Ciao! Ciao!